Raccontare il mondo del volontariato attraverso gli occhi e le parole dei più piccoli. Saranno infatti i bambini i protagonisti della nuova campagna di sensibilizzazione promossa dalla delegazione a retina di Cersvot. È un modo per promuovere il volontariato sicuramente più interessante e anche in qualche modo accattivante perché attraverso la voce dei bambini è sicuramente più facile promuovere e far capire alle persone l'importanza dell'azione dei nostri volontari. Gli studenti della scuola elementare di Giovi per l'occasione diventeranno giornalisti per un giorno attraverso incontri mirati e formativi con giornalisti professionisti ed associazioni. All'iniziativa ha aderito anche la redazione di Arezzo TV. Per promuovere il volontariato siete degli attori indispensabili e comunque da sempre sensibili sui nostri temi e sempre presenti nella promozione dei nostri eventi. Quindi insomma ci è venuto quasi naturale costruire un pochino questo progetto con il comune e con voi, con tutti i giornalisti del nostro territorio. I bambini alla conclusione di questo percorso si misureranno con una vera e propria conferenza stampa con le associazioni di volontariato. Le prime due tappe si sono svolte all'interno della scuola dove abbiamo discusso nella prima tappa dei temi che riguardano il volontariato. Oggi la seconda tappa con l'incontro con i giornalisti e ora andremo nelle varie redazioni. I bambini con i loro tutor giornalisti in redazione capiranno come potranno lavorare nei prossimi giorni per preparare poi la conferenza stampa, l'evento finale della conferenza stampa. Il tutto sarà filmato per diventare un breve documentario ed uno spot che saranno al centro della campagna sul volontariato promosso da Cesvot per il 2017.